E' la volta di Matteo Bensi e adesso arriva il re dei waltzer, il carnevale di Venezia. Per voi, Matteo! Per voi, Matteo! Matteo, guarda come fai andare veloci! Le gondole, le hai preso veloce, fai correre tutti! Ritorniamo al classico. 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 Penultima. Ce n'è una che piace in modo particolare a mio padre. Che le cose semplici sono le più belle. Ritorniamo al classico. L'office armonica, piacentina, Matteo Bensi. Ritorniamo al classico. Ritorniamo al classico. Ritorniamo al classico.